Sei, noi piangiamo e compiangiamo voi. Cenacolo, il silenzio delle stelle, attraverso Maria Teresa G., entità. Il mi nome non ha importanza, ma la mia storia sì. Menesuita ha quarant'anni, col petto scarnificato inutilmente. Il mi dottore lo diceva sempre. «Le è un male che un si può trascurare, ma io, testona, cocciuta, un volevo lasciare il mio lavoro, il mio uomo porino un lavorava da tanto tempo». Pretese un se n'aveva. Se fosse stato per noi due, duecentomila sarebbero bastate, avendo la casa, ma c'era la mia cittina e lei era abituata ad avere tutto. La scuola, i bei vestitini, il motorino, la parrucchiera, il cinema, e la mi diceva «Mamma, te tu mi compri codesto, mamma, te tu mi compri quell'altro». E io l'accontentavo, era la mia cittina, mi pareva giusto. Quando me ne so ita, nessuno poté più dargli nulla di nulla. L'aveva si e no diciotto anni e si era messa appiccicato addosso un tizio ricco che l'aveva rincitrullita con tante gabbole. «Aveva promesso di sposarla, sì, sposarla. La pelliccia, la collana, una bella casa, sì, ma sposarla. E poi, stufatosi, l'ha scaricata un amico che l'ha scaricata un altro amico e adesso la mia cittina, che non ha ancora trent'anni, l'è malata fradicia. «E spero e prego Dio, sì, prego che la venga presto di qua, con me». «Uno è possibile per chi vuole bene ai figlioli. Perdonatemi lo sfogo, io vo e pregate con me perché Dio possa farla venire presto». Commento «Attraverso Maria Teresa G. Guida Voi vi meraviglierete che una mamma che ha tanto amato la sua creatura possa desiderare la sua morte. Vedete, il concetto umano è completamente errato. L'uomo piange su coloro che muoiono, specialmente se sono giovani, ma è sbagliato completamente. Voi piangete e compiangete noi. Noi piangiamo e compiangiamo voi». Grazie. 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 Grazie.